Lavorazione eseguita Audi A8, come vedete questo è tutto il cruscotto e il monitor originale il cliente ha eseguito una richiesta, Stefano sul monitor originale di questa Audi A8 posso interfacciare la vostra centraina Apple CarPlay Android Auto? Ovviamente sì, ed ecco come è venuto il lavoro a lavorazione eseguita qui siamo sul monitor originale, come vedete questo è Audi per entrare in programmazione con la nostra centraina, tasto menu per qualche secondo entriamo direttamente in Apple CarPlay o Android Auto in questo caso il cliente è Apple, quindi stiamo vedendo Apple CarPlay potrà gestire tutto vocalmente con Siri oppure manualmente come sto facendo io in più abbiamo altre funzioni ecco qui, adesso andiamo ad attivare possiamo avere radio e navigazione insieme oppure usciamo dalla nostra centralina qui andiamo in Home e come vedete abbiamo Apple CarPlay e Android Auto ma la cosa eccezionale è che creiamo anche un ingresso video direttamente sul monitor originale tramite la USB quindi i clienti se vorranno vedere un video o cose varie basta inserirlo alla presa USB che abbiamo creato noi e avranno anche un video in più abbiamo eseguito anche la retrocamera mettiamo in moto per far vedere la retrocamera ritorniamo in Apple CarPlay ecco qui e attiviamo la retrocamera e abbiamo creato anche un ingresso video con retrocamera mantenendo sensori di parcheggio originali e linee guida grazie grazie a tutti grazie a tutti